Il nome dell'Aquila dell'Abruzzo in Arabia o Saudita. Dal 1 gennaio al 14 febbraio, con il sostegno dell'assessorato allo sport della regione Abruzzo, i fratelli Tito e Silvio Totani, imprenditori aquilani con la passione da sempre dei motori, parteciperanno alla Dakar 2022, la più celebre gara di rally che si terrà in Arabia o Saudita. L'equipaggio è uno dei pochissimi italiani iscritti nella categoria T1 4 ruote motrici e i Totani hanno alle loro spalle il successo della Dakar 2012 in Sud America, quando furono gli unici italiani a tagliare il traguardo della complicata gara che li vide affrontare i picchiandini del Cile fino alle spiagge oceaniche del Peru. L'equipaggio che parteciperà alla Dakar, unico equipaggio abruzzese, è stato presentato in un evento a Palazzo dell'Emiciclo, dove davanti al colonnato è stata mostrata un'automobile analoga a quella che parteciperà alla gara, perché quella vera è già stata imbarcata per raggiungere la penisola arabica. La macchina è una Nissan Patrol e porterà sulla sua carrozzeria il simbolo e i colori della regione Abruzzo. Una gara lunga e complessa, che presuppone anche un'adeguata preparazione fisica, perché si sta in macchina molte ore al giorno. Siamo con Tito Totani, uno dei protagonisti della Dakar 2022. Non è la prima volta per voi. Che esperienza è stata quella del 2012 e soprattutto che cosa vi aspettate da questa? Le Dakar sono tutte una diversa dall'altra. Le esperienze passate insegnano qualcosa, ma comunque sono gare molto lunghe, molto complicate e bisogna sempre improvvisare. Questa in terra da rabbia, francamente, è un po' una novità per tutti, perché si è cambiato completamente continente e scenario, e quindi la sabbia sarà sempre tanta, però le difficoltà sicuramente saranno le stesse. Quindi bisognerà molto cercare di interpretare il ritmo della gara. Molto bello portare però i colori dell'Abruzzo così lontani. Lei e suo fratello siete degli imprenditori nel settore automobilistico qui in città e questa è una delle competizioni automobilistiche più importanti al mondo. Sicuramente è la competizione più dura e più lunga che esiste al mondo in campo automobilistico. Infatti ci sono piloti di rango di ogni categoria che ogni anno provano ad effettuare questa sfida, che è un po' un'avventura. Proveremo a tenere alto la nostra bandiera, proveremo a fare il possibile, anche se noi siamo dei privati, quindi ovviamente non abbiamo i mezzi dei top team, però venderemo dura la pelle. L'equipaggio che avete già imbarcato e fuori al colonnato ne abbiamo visto uno simile, vogliamo descrivere anche il vostro equipaggio? Sì, la squadra è stata già imbarcata da una settimana a Marsiglia, quindi stanno tutti i mezzi, l'assistenza, l'autovera da gara e tutto il resto stanno già raggiungendo Jedda, il porto di Jedda, dove noi arriveremo il 28 dicembre per ritirare i mezzi e partire il primo gennaio. Il team è composto da meccanici di assistenza, ci sono dei camion di assistenza, ci sono degli equipaggi che fanno una Dakar che da due anni si corre, si chiama Classic, che diciamo è una mini gara per fare esperienza e noi invece faremo la gara moderna, la gara vera. Silvio Totani, siamo pronti, questo bel evento, questa presentazione in regione, l'unico equipaggio abruzzese che parteciperà alla Dakar 2022? Sì, siamo l'unico equipaggio abruzzese di questa Dakar, ma anche delle Dakar precedenti, che noi ne abbiamo fatte tre, siamo gli unici equipaggi abruzzesi che ha partecipato alla Dakar. Quest'anno ci sarà anche un altro equipaggio italiano, un equipaggio toscano che parteciperà a questo evento e poi ci saranno in altre categorie di altri equipaggi sempre italiani nella categoria Classic. Una gara molto lunga, complessa anche in uno scenario diverso, quali possono essere le difficoltà tecniche che si possono incontrare? Guarda, la gara è la gara più lunga del mondo, che dura ben 15 giorni, 8.500 km circa, quindi la durata dice già la sua. Ogni giorno, noi siamo in macchina dalle 10 alle 15 ore, ogni giorno si fanno in media da 600-800 km, quindi è chiaro che può capitare di tutto, noi cercheremo di non far capitare nulla e di arrivare sempre tutte le sere in fondo. È chiaro che poi la sera c'è intervento dei meccanici che ci rifanno comunque la macchina a nuovo tutte le sante sere. C'è dietro una preparazione tecnica, insomma, prima di partire? Sì, la professione fisica, prima di tutto, perché comunque stare ore e ore in macchina è importantissimo. La professione tecnica è logistica perché non è facile preparare la macchina, svilupparla, provare nuovi materiali, nuove sospensioni, nuove gomme e cercare di avere la macchina sempre al top e pronta col massimo dei materiali che ci vengono fuori ogni anno. Comunque c'è uno sviluppo continuo di queste macchine. Per voi non è la prima volta, nel 2012 siete stato l'unico equipaggio italiano poi a tagliare il traguardo? Sì, noi abbiamo fatto nel 2009 la prima Dakar con il camion, 2011 ancora con il camion, 2012 con un Mitsubishi Pajero siamo stati gli unici italiani a arrivare in fondo e abbiamo fatto anche quarti di categoria assoluta, quindi comunque un ottimo risultato, essendo una macchina semi-ufficiale. Ecco, voi siete degli imprenditori nel campo automobilistico che vantate una lunga esperienza e tradizione. Come vi è venuto in mente la prima volta di provarci? Perché poi, a differenza delle grandi squadre, dei grandi team, siete degli privati. Sì, noi siamo dei privati, noi abbiamo iniziato a fare i fuoristrada da subito, cioè mio fratello ha iniziato a correre a 18 anni, io ho iniziato a correre a 18 anni, abbiamo iniziato con i primi campionati italiani, poi qualche campionato europeo e poi si è partiti man mano con le coppe del mondo. La Dakar chiaramente è la gara più importante al mondo, è quella che ti dà, insomma, quello che sogniamo tutti quanti da bambino. A noi è sempre stato un sogno partecipare alla Dakar, oggi rifare la quarta Dakar dopo dieci anni è un grande evento. La Regione ha deciso di sostenere l'impresa tutta aquilana dei fratelli Totani, che portano alto il nome dell'Abruzzo in una delle competizioni più importanti al mondo, dove si concentrano i riflettori dell'intero pianeta e si contano sulle dita di una mano i piloti italiani che vi partecipano, o che, come i Totani, hanno tagliato il traguardo negli anni. Dakar è uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo, che prevedeva fino al 2007 la tappa finale nella capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. È nota anche come Parigi-Dakar, perché nelle prime edizioni il percorso iniziava appunto dalla capitale francese per terminare in quella del Senegal. In seguito, mentre l'arrivo si è mantenuto quasi sempre a Dakar, la serie di partenza ha subito diversi spostamenti dal 1995. Alla gara partecipano autovetture, motociclette, autocarri, quad e side-by-side. I mezzi che intraprendono questa durissima gara sono dotati di GPS e si vedono rinforzare le proprie parti meccaniche per sopportare il gran caldo e le sollecitazioni. È la terza volta che l'Arabia Saudita ospita l'evento. Dai Monti alle Dune, la regione Abruzzo sceglie di sostenere questo evento sportivo. La Dakar parteciperanno due aquilani, Silvio e Tito Totani, che hanno però una lunga esperienza. È uno dei pochi equipaggi italiani, è una bella soddisfazione, insomma, portare in giro il nome dell'Aquila. Sì, una giornata davvero emozionante per quanto mi riguarda, sia perché pochi saranno gli equipaggi, pochissimi equipaggi che andranno alla Parigi-Dakarra, e l'unico equipaggio abruzzese è quello dei fratelli Totani. È un'emozione per me da assessore regionale, anche perché non l'ho mai nascosto. Mi lega a loro un rapporto anche di parentela. Sono delle persone eccezionali che hanno costruito un impero dal punto di vista automobilistico nell'ambito, in particolar modo, dei fuoristrada, e che già nel 2012 erano stati a Parigi-Dakarra. Stanno riaffrontando questa bellissima sfida quest'anno, andando a portare i colori dell'Abruzzo fuori dei confini nazionali, in una delle, anzi forse nella competizione automobilistica più importante del mondo. Saranno 14-15 giorni di emozioni e di tensione, perché la grande sfida è arrivare all'arrivo. La Regione Abruzzo, proprio apprezzando gli sforzi importanti di un colosso nell'ambito automobilistico, che ha ormai una rilevanza nazionale e internazionale, sta fortemente spingendo, corroborando le energie dei due fratelli Tito e Silvio, che stanno facendo della loro iniziativa anche una bandiera nell'ambito dello sport. Facciamo un grande in bocca al lupo, sosterremo con forza l'iniziativa, i colori dell'Abruzzo saranno in Arabia Saudita a sventolare e a dare piena rilevanza a quella che è una macchina sempre più importante, quella abruzzese, che sta cercando di coniugare i grandi eventi allo sport e all'indotto socio-economico che ne deriva nel portare il brand al di fuori dei confini nazionali e internazionali. Sindaco, l'Aquila arriva molto lontano con i fratelli Totani che parteciperanno ancora una volta alla Dakar. È un motivo di grande soddisfazione portare la bandiera dell'Aquila, la bandiera dell'Abruzzo in questa competizione, la più importante del mondo automobilistica? Sì, assolutamente, è sempre una gara molto avventurosa, direi epica, è entrata nell'immaginario collettivo di chiunque di noi e il fatto che in questa traversata incredibile ci sia anche il simbolo dell'Aquila, rappresentato dai due fratelli Totani e si porti in alto anche il nome della regione Abruzzo. È indiscutibilmente un elemento di promozione della straordinaria varietà di competenze e di professionalità che ci sono in questa città e in questa regione.